triduo in onore di san giuseppe per domandare delle grazie da recitarsi tutto intero per tre giorni di seguito a partire dal 16 marzo al 18 marzo oppure ogni volta che si desidera esprimere la propria devozione al santo o domandare qualche grazia speciale preghiamo insieme nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen o dio viene a salvarmi signore vieni presto in mio aiuto gloria al padre e al figlio e lo spirito santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen credo in dio padre onipotente creatore del cielo e della terra e in gesù cristo suo unico figlio nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine patì sotto ponzio pilato fu crocifisso morì e fu sepolto discesa gli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo siede dalle destre di dio padre onipotente di là verrà giudicare i vive morti credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la resurrezione della carne la vita eterna amen o san giuseppe mio protettore a te ricorro affinché mi ottenga dal sacro cuore di gesù questa grazia per i miei peccati non merito di essere esaudito supplisci nelle mie manganze e potente quale sei fa ottenuta per tua pia intercessione la sospirata grazia io possa venire ai tuoi piedi per renderti doverosi omaggi della mia gratitudine gloria al padre al figlio lo spirito santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen non dimenticare o caro san giuseppe che nessuna persona al mondo per grande percatrice che fosse è ricorsa a te rimanendo delusa nella fiducia e nella speranza in te risposte a mille splendono le grazie brillano i favori che tu intercedi per i poveri afflitti non permetterò gran santo che io abbia ad essere il solo a restare privo della grazia che ti domando mostrati potente e generoso anche verso di me e la mia lingua la mia anima il mio cuore ringraziandoti canteranno viva in eterno il glorioso patriarca san giuseppe gloria al padre al figlio lo spirito santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen o eccelso capo della santa famiglia io ti venero profondamente e di tutto cuore ti invoco già tutte le anime afflitte che ti hanno pregato hai concesso conforto e pace grazie e favori degnati quindi di consolare col tuo aiuto anche l'anima mia addolorato che non trova riposo fra le angustie da cui ho oppresso tu o gran santo vedi in dio tutti i miei bisogni tu dunque sai quando mi è necessaria la grazia che ti domando se mi ottieni questa grazia io ti prometto di amarti sempre e di servirti fedelmente sino alla morte o san giuseppe consolatore degli afflitti abbi pietà del mio dolore gloria al padre al figlio lo spirito santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen ricordati o virginale sposo di maria vergine o mio dolce protettore san giuseppe che nessuno ha mai invocato la protezione la tua protezione e chiedo il tuo aiuto senza essere stato consolato con questa fiducia a te mi rivolgo e fervorosamente mi raccomando o padre del redentore ascolta la mia preghiera ed esaudiscila pietosamente amen gloria al padre al figlio lo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen